Può festeggiare, ma solo in parte, Antonio Ricci e la notizia che Magnoli, alla società produttrice di Masterchef, ha citato in giudizio Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione del Talent Culinario. L'azienda ha fatto sapere in una nota che si è arrivati a questa decisione affinché sia accertata in maniera inequivocabile da un giudice competente la sussistenza o meno dei requisiti da parte di Callegaro per la partecipazione al programma. Magnoli ha precisato che le informazioni fornite da Stefano per la partecipazione a Masterchef non sembrano essere irregolari, ma poiché risultano testimonianze in contraddizione, leggiamo nella nota, per arrivare ad un accertamento della situazione che tuteli la credibilità del programma e anche gli interessi dei soggetti coinvolti, Magnoli ha deciso di agire giudizialmente. Striscia la notizia per tutta risposta ha emanato un altro comunicato in cui rivendica ci sono voluti quasi tre mesi e 38 fra inchieste e interviste di Striscia, ma alla fine Magnolia si è convinta che c'era stato qualcosa di anomalo nella quarta edizione di Masterchef.